La sua altezza reale, il principe di Piemonte, consegna in colle ferro, innanzi ad una grande adunata di popolo, numerose ricompense al valore militare, di cui 59 alla memoria e 7 ai viventi, concesse al personale degli stabilimenti Bombrini Parodi Delfino per atti di eroismo compiuti durante il sinistro che colpì la grande fabbrica nel gennaio dello scorso anno. Grazie a tutti.